Sono in corso le attività formative della FIDE, il campus estivo del 2019, il cui titolo per quest'anno è la leadership educativa e carismatica nelle scuole paritarie cattoliche. Mi sembra un'iniziativa interessante e lodevole che la FIDE mette a disposizione di tutte le scuole paritarie cattoliche perché sta investendo sulla formazione delle figure apicali. A livello organizzativo si riesce a consapevolizzare che la figura del coordinatore delle attività didattiche è una figura emblematica per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi che le singole scuole si prefigono. Questa esperienza formativa che si sta svolgendo a Lucca in una cornice incantevole e naturale è un'esperienza che sta avvantaggiando i presenti e che purtroppo sarebbe potuta essere allargata ancora più persone per cogliere la preziosità dell'iniziativa. A mio avviso in questa fase i coordinatori si stanno rendendo conto che pur in presenza di difficoltà di natura organizzativa, conosciamo bene qual è la situazione delle scuole paritarie nel nostro Paese, riescono a supplire con investimenti su procedure di qualità, ad esempio sull'accreditamento, sulla certificazione di qualità, ma allo stesso tempo anche sull'attivazione in molte scuole a livello sperimentale di sistemi di valutazione e di autovalutazione di istituto, tra queste iniziative lodevoli stanno attivando anche percorsi di formazione. L'obiettivo specifico di questa formazione è quello di riuscire a creare riflessività su una leadership che dovrebbe essere sempre di tipo educativo per favorire la crescita di tutte le persone che sono inserite nella comunità educativa e anche carismatica, vale a dire non tanto legata al carisma del leader, quanto piuttosto attuative di quelle che sono state le intuizioni profetiche dei fondatori delle singole organizzazioni religiose che portano avanti la gestione delle scuole paritarie.